Bene ragazzi, oggi parliamo di Creta, cioè della civiltà minoica, la civiltà dell'isola di Creta, chiamata così dal mitico re Minosse, il re Minosse, il costruttore del labirinto dove veniva tenuto prigioniero il Minotauro, il mosso dalla testa di toro e dal corpo di uomo. Comunque parliamo della civiltà cretese. Allora la civiltà cretese sorge intorno al 2000 avanti Cristo, in quest'isola praticamente ci sono, l'isola era organizzata in piccoli regni indipendenti, c'erano delle città-stato come Knosso, Pesto, Aghiatriada e Maglia, anche se poi diciamo che la città più famosa, il regno più importante nel periodo dello splendore cretese sarà proprio quello di Knosso. Allora stiamo parlando di una società organizzata intorno al palazzo, infatti questi piccoli regni indipendenti, queste città-stato erano organizzate, avevano come motore il palazzo, un grande palazzo, infatti parliamo di civiltà palazziale, perché il palazzo, e qui abbiamo l'immagine, o almeno una ricostruzione del palazzo di Knosso, lo possiamo vedere meglio qui, eccolo qui, allora stiamo parlando di grandi palazzi che erano il cuore della città, il cuore del regno, palazzi come vedete organizzati intorno a un grande cortile, un grande cortile centrale e rettangolare dove si svolgevano i giochi ginnici, le cerimonie religiose. Allora il palazzo era il centro della vita politica perché all'interno viveva il re e la regina, era il centro della vita economica perché soprattutto da questa parte c'erano i magazzini dove venivano conservate le scorte di vino e di olio che erano i principali prodotti che Creta vendeva, commerciava con i paesi vicini e anche con il vicino oriente e poi tutti gli altri oggetti che venivano commerciati, che venivano venduti dai cretesi che erano abili mercanti e dominavano il Mediterraneo orientale. Ritornando al nostro schema, quindi centro politico abbiamo detto centro economico perché nei magazzini c'erano tutti i prodotti che poi Creta vendeva ai popoli vicini e centro religioso perché, come abbiamo detto, nel cortile si svolgevano nel cortile ma anche all'interno del palazzo si svolgevano le cerimonie religiose. Allora quindi stiamo parlando all'interno di queste città-stato di un potere esercitato da un sovrano, c'era il re e c'era la regina, attraverso i suoi funzionari, cioè il sovrano veniva aiutato dai suoi funzionari. Chi erano questi funzionari? I funzionari erano almeno al vertice della società cretese, c'erano soprattutto ricchi proprietari terrieri e mercanti, i quali si erano arricchiti esportando vino e olio, che erano i prodotti principali di quest'isola. Quindi abbiamo detto che Creta esercita una talassocrazia, cioè una egemonia economica sul Mediterraneo orientale. Attenzione non parliamo di egemonia politica né militare, assolutamente perché i cretesi erano un popolo pacifico, anzi dobbiamo dire che questi palazzi non avevano assolutamente mura difensile, c'era una totale assenza di strutture difensive, cioè queste città cretesi non erano protette da mura. Questo perché il popolo cretese era un popolo pacifico e anche perché evidentemente Creta si credeva sicura perché protetta dal mare in quanto un'isola. Allora quindi Creta esercita una egemonia economica sui commerci nel Mediterraneo orientale. Quindi la talassocrazia, il dominio sul mare è di natura economica, non certo militare. E la città cretese si sviluppa dal 2000 al 1500 a.C. e possiamo elencare almeno due periodi fondamentali. Dal 2000 al 1700 a.C. il periodo protopalazziale, cioè il periodo dei primi palazzi, protos in greco significa primo, il periodo dei primi palazzi che sorgono in queste città, in questi regni indipendenti. Purtroppo però nel 1700 questi palazzi vengono distrutti, non si sa da che cosa, forse da una calamità naturale oppure da uno scontro armato, da una ribellione perché ci sono anche resti di incendi nei palazzi. Comunque subito dopo, nel 1700, la civiltà cretese rinasce, anzi rinasce più splendida di prima perché dal 1700 al 1500 a.C. abbiamo il periodo neopalazziale che è il periodo dello splendore della civiltà cretese e il periodo proprio della vera e propria talassograzia. Nel 1500 abbiamo un evento catastrofico, probabilmente un fenomeno naturale, gli studiosi ipotizzano uno tsunami che proveniente quindi dal mare distrugge i palazzi dell'isola di Creta. Per cui qui finisce la civiltà cretese perché poi 50 anni dopo arrivano i micenei che conquistano Creta nel 1450 e in un certo senso ne assorbono la civiltà. E quindi ecco finisce Creta, finisce diciamo lo splendore della civiltà cretese. Allora che cosa c'è da ricordare per quanto riguarda, che cos'altro c'è da ricordare per quanto riguarda la civiltà cretese. Il tipo di alfabeto, il tipo di scrittura utilizzata dai cretesi, una scrittura alfabetica sillabica è chiamata lineare A che però non è stata ancora decifrata. A differenza della lineare B che è stata scoperta dallo stesso archeologo Michael Evans proprio a Creta e che è lingua greca, che è lingua dei micenei e che è stata decifrata appunto come greco arcaico. Purtroppo la lingua cretese non è stata decifrata. Comunque era una scrittura molto semplice perché era una scrittura alfabetica, era una scrittura utilizzata dai mercanti, per i mercanti cretesi, per i loro conti, per registrare i loro merci e quindi una scrittura che era abbastanza diffusa anche tra il popolo. Un'altra particolarità dell'isola di Creta è che quella cretese era una società materarcale e se pensiamo a quello che poi sarà invece il mondo greco dalla civiltà micenea in poi, da dove la donna era relegata in casa, in alcuni appartamenti del palazzo, cioè nel gineceo e non poteva uscire. Vediamo invece una donna cretese molto libera che partecipa ai riti religiosi, che fa anche i giochi ginnici nel cortile del palazzo, anche la cosiddetta taurocatastia, cioè l'acrobazia sul toro. Una donna che indossa dei costumi molto liberi. Ecco, vediamone uno. Allora, ecco qui, questa probabilmente è la dea madre o dea dei serpenti, anche perché la dea principale venerata dai cretesi era proprio una dea donna che rappresentava la fertilità e quindi la fecondità e la fertilità dei campi. Ecco, qui vediamo questo costume che probabilmente era un costume utilizzato dal donna e cretesi. Vedete, un costume che assomiglia molto a un abito ottocentesco, però cosa c'è di particolare? C'è di particolare che questo costume tiene scoperto il seno. Ecco, una cosa quasi inaudita, diciamo, nel nostro mondo, però ecco, questo ci testimonia quanto fossero libere le donne cretesi. Ecco, cosa voglio dire, ecco, molto strana nel Mediterraneo, perché poi la civiltà che si sviluppa nel Mediterraneo, quella greca, ecco, purtroppo è una civiltà che assegna alla donna solo il compito di badare alla casa, al marito e ai figli, insomma, la relega nel gineceo. Va bene? Abbiamo finito.